Le seconde squadre che sono state quasi d'imperio inserite in questo progetto per la prossima stagione, qual è la presa di posizione del presidente Gravina su questo atto del subcommissario Costacurta? La mia presa di posizione è ben nota da tempo. Il progetto seconde squadre è un progetto che io avevo inserito nella mia piattaforma programmatica, condivisa, è un progetto molto valido ma è un progetto complesso, molto articolato, che va calato nella realtà con molta attenzione, va gestito con molta cautela. Ho la sensazione che questa partenza rapida, devo dire anche abbastanza improvvisata sotto molti aspetti, credo che coglierà un po' tutti di sorpresa. La mia preoccupazione è che si parte non con piede giusto e soprattutto il rischio che va a inficiare da un lato l'interesse del progetto e dall'altra va a offendere di fatto la dignità del progetto seconde squadre.